In questa edizione del DNews sono 27 le persone indagate dalla procura distrettuale per restorsione e usura. Nel mirino anche diversi esponenti della famiglia Bosco, titolare di una catena di supermercati e di società di catering, sequestrate alcune centinaia di migliaia di euro. 170 finanzieri del comando provinciale di Enne e di altri reparti della Sicilia hanno dato esecuzione a 40 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di soggetti residenti nelle province di Enna, Catania, Caltanissette e Agrigento. Le indagini hanno consentito di sgominare un'articolata rete criminale dedita all'approvvigionamento e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il lavoro decide il futuro, partecipazione e democrazia per un lavoro di qualità è il tema del congresso provinciale della FIOMO CGL. Polemica sulla vertenza catanè operante a Fontana Rossa dopo la presa di posizione dei sindacati che hanno proclamato lo sciopero per il 18 marzo. Adesso a parlare è il Comitato della responsabilità e per la tutela del lavoro che vogliono trattare con l'azienda. Operai al lavoro a Catania, fiori e piante ad alto fusto per abbellire il percorso che il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, farà durante la visita in città. Mondo ragazzi è il mondo dei più piccoli. Abbigliamento e calzature per bambini con i marchi più prestigiosi. Armani, Aston Martin, Barberi, Guess, Armo in Blaine, Hogan, Hugo Boss, Levis, Liu Jo, Mona Lisa, Moschino, Nanan, Patrizia Pepe, Superga, Timberland, Tots, USA Polo e tanto altro. Da Mondo ragazzi corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanze dei giochi. Mondo ragazzi si trova a Catania in via Pola 19, a De Grigento in via Tenea 22 e a Sciacca in via Licata 95. Mondo ragazzi, amici d'infanzia! L'Istituto Stanislao Canizzaro di Catania eroga una formazione mirata alle attività di laboratorio, alla frequenza di stagio aziendali e alla realizzazione di periodi consistenti all'alternanza scuola-lavoro. Inoltre dà la possibilità agli studenti del terzo anno di conseguire prima del diploma una certificazione di qualifica professionale regionale, in quanto centro accreditato per la formazione professionale in Sicilia. Il Canizzaro che gestisce le cinque specializzazioni chimica, elettronica, elettrotecnica, informatica e meccanica, essendo una scuola tecnico-professionale, è inserita all'interno dei finanziamenti del POR Sicilia per i percorsi A e B, più veloci verso il mondo del lavoro. L'Istituto Tecnico Industriale Stanislao Canizzaro, via Carlo Pisacane 1, Catania, telefono 095 45 15 57, www.cannizzaroct.it L'esperienza di ieri, la tecnologia di domani. Associazione per delinquere, usura ed estorsione, in alcune ipotesi con l'aggravante, sono i reati contestati a 27 persone, tre delle quali sono ancora ricercate, nell'ambito dell'operazione Money Lander. Le indagini della squadra mobile sono partite nel 2008, nei confronti di alcuni appartenenti alla nota famiglia Bosco, imprenditori nel settore della distribuzione alimentare, titolari di una catena di supermercati, Fratelli Bosco, che in associazione tra loro e con altri soggetti, in particolare Antonino e Mario Cuntro e Giovanni Di Prima, prestavano denaro a tassi usurari ad imprenditori, commercianti ed artigiani. Le indagini hanno preso il via dalle denunce sporte da alcuni imprenditori edili, i quali avevano contratto debiti a tassi usurari e avevano pagato interessi per diverse centinaia di migliaia di euro. Si parla di tassi di interesse applicati che potevano raggiungere anche la percentuale annua del 140%. Importante in questo senso è stata la posizione dell'associazione anti-racket anti-usura etnea, che ha sostenuto alcune delle vittime e si è costituita parte civile. E da quel momento la polizia li ha aiutati tantissimo. Devo dire, hanno trovato degli amici all'interno della polizia, come siamo amici noi, e questo ha dato loro la forza di resistere tutto questo tempo e di andare avanti. Nel corso delle indagini sono stati riscontrati 21 episodi di usura e 11 di estorsione. Altri episodi di usura non sono stati contestati per la mancata individuazione delle vittime. Le attività commerciali dei Bosco, in particolare il supermercato ubicato in via Orto dei Limoni, costituivano il centro nevlagico delle attività usurarie, perché proprio in quei punti vendita coloro che necessitavano di prestiti erano sicuri di trovare i finanziatori. Così come accertato per alcuni casi, gli assegni dati a garanzia dalle vittime di usura venivano girati ai fornitori dei supermercati. In più è accaduto che le vittime pagavano gli interessi utilizzando la carta di credito o il bancomat nei post dei supermercati, così come emerso chiaramente da un'intercettazione ambientale, ove Antonino Bosco aveva preteso il pagamento di 60 euro dalla vittima, poiché sulla transazione avrebbe pagato la relativa commissione bancaria. In alcune circostanze le vittime, che non riuscivano a far fronte al pagamento di interessi usurari, sono state costrette a stipulare un compromesso relativo all'accessione di immobili di loro proprietà. Si tratta di numerosi episodi di usura e di estorsioni collegate con l'usura, è il dato significativo che credo dia un buon elemento di riscontro alle nostre indagini, che questa mattina abbiamo sequestrato circa 400 mila euro in contanti tra la cassaforte di un supermercato e le abitazioni di alcuni degli indagati. Quindi credo che questo dia anche il senso della rilevanza del giro degli affari che ruotava intorno a questo gruppo. Tra i destinatari della misura figuravano Francesco Agnello e Antonino Buffa, entrambi dipendenti del Ministero della Giustizia, che è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di usura e di estorsione nel finanziare il prestito e nell'esigere le somme pattuite all'appartenenza o alla vicinanza al clan Cursoti. Coinvolti anche due dipendenti del Ministero, qual era il loro ruolo? Sì, un commesso della procura e un altro impiegato che era in pensione. Non fanno parte dell'associazione, però hanno partecipato all'attività di usura in un caso anche con l'utilizzo di metodi non ortodossi per il recupero delle somme date come usura. La misura della custodia cautelare in carcere è stata emessa anche nei confronti di Massimo Squillaci, appartenente all'omonima famiglia mafiosa dei Mattidina. Affiliata all'organizzazione Santa Paola Ercolano e successivamente transitata per un periodo al clan Cappello Bonaccorsi. Tra gli altri destinatari anche Mirko Pompeo Casesa e Giuseppe Emilio Platania, ai quali sono stati contestati i reati di usura e tentata estorsione. Nel corso delle perquisizioni domiciliari è stata sequestrata una somma complessiva, ancora in fase di inventario, ma superiore ai 350 mila euro. Inoltre i finanziari del Comando Provinciale di Catania hanno dato esecuzione al sequestro preventivo delle somme costituenti il profitto del reato di usura per un valore di circa 800 mila euro nei confronti di 20 soggetti indagati, tra i quali per l'appunto 6 componenti della famiglia Bosco, i quali risultano avere effettuato prestiti per circa un milione e mezzo di euro. È un tipico caso di usura, come è stato detto, è un'attività che è cominciata nel 2008 con attività tecnica, supportata poi dalle dichiarazioni e dalle conferme arrivate dalle vittime, supportate anche in questo caso dalle associazioni anti-racket che hanno fatto un lavoro importantissimo di supporto per far sentire anche la vicinanza di tutte le istituzioni impegnate in questa lotta. Naturalmente, come spesso capita, l'attività di usura, per essere ancora più convincente, è stata associata anche a attività di minaccia e di violenza e quindi anche di estorsione. Basta operazione antimafia della Guardia di Finanza che ha dato esecuzione a 40 ordinanze di custodia cautelare tra le province di Enna, Catania, Caltanissette e Agrigento. Le indagini condotte dalla Compagnia di Enna e dalla tenenza di Piazza Armerina, coordinate dalla Procura Ennese, hanno consentito di sgominare una rete criminale specializzata nell'approvvigionamento e nello spaccio di sostanze stupefacenti, anche all'interno di una scuola. L'organizzazione, divisa in vari gruppi, gestiva la vendita degli stupefacenti nei comuni di San Cono, Mirabella in Baccari, San Michele di Ganzaria e Raddusa, in provincia di Catania, nonché a Piazza Armerina e Real Monte. L'indagine, iniziata nel primo semestre del 2012, ha portato all'emissione da parte del GIP di Enna di 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 20 ai domiciliari nei confronti dei componenti della ramificata organizzazione. Sono stati disposti anche tre obblighi di firma per soggetti collegati a vario titolo con il sodalizio criminale. La rete operava soprattutto tra giovanissimi assuntori, spesso tra le mura scolastiche o i luoghi limitrofi. L'attività investigativa ha avuto inizio dalle videoriprese effettuate dai finanzieri all'interno del cortile di una scuola secondaria superiore di Piazza Armerina, che ha rivelato l'intensa attività di spaccio che avveniva alla luce del sole durante le ore di ricreazione. Gli investigatori hanno poi proseguito con le attività tecniche di intercettazione telefonica e ambientale, che ha consentito di svelare un'intricata rete di rapporti criminali inerenti l'approvvigionamento e lo spaccio di ingenti quantitativi di marijuana e in misura minore di cocaina e hashish. A quel punto sono iniziati riscontri operativi e controlli, a volte palesi dei finanzieri, a cui seguivano istantaneamente gli sms dei criminali che avvisavano gli altri dei controlli e del pericolo guardia di finanza. sms che venivano puntualmente intercettati dagli investigatori. Al centro del traffico di sostanze stupefacenti, Dara Massimo, residente a San Cono, che grazie alla sua rete di pusher, riforniva le scuole della zona di marijuana. Altri personaggi si erano poi ritagliati la loro fetta di potere, come Arena Carmelo, soggetto dall'indole violenta, già balzato agli onori della cronaca per l'aggressione con una spranga di ferro a un gitante presso la villa romana del Casale. Nel corso delle operazioni investigative sono state sequestrate oltre due chili di sostanza stupefacenti, in maggior parte marijuana, e denunciati a piedi libero altri 36 soggetti. A Biancavilla, nel Catanese, un avvocato di 39 anni si è tolto la vita impiccandosi nel suo studio legale. Il professionista da alcuni mesi era seguito da un medico suo familiare a causa di stati d'ansia e depressione di cui soffriva. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagna di Paternò. La procura di Catania ha disposto soltanto l'ispezione medico-legale sulla Salma. Con il miglioramento delle condizioni meteorologiche sono ripresi flussi migratori dalla sponda meridionale del Mediterraneo verso l'Italia. L'operazione umanitaria Mare Nostrum continua senza sosta e il dispositivo aeronavale dispiegato, comprendente l'unità Amfibia-San Giusto, le fregate Espero e Aliseo, la rifornitrice di squadra Stromboli, il pattugliatore Libra, la componente elicotteri, insieme al personale e ai mezzi di aeronatica militare, carabinieri, guardie di finanza, guardie costiere, tutti i corpi dello Stato, ha soccorso nell'ultimo fine settimana un totale di 1.085 migranti. Ne dà notizia la stessa marina militare. Nel weekend che va da venerdì 14 a domenica 16 febbraio, in cooperazione con le navi Aliseo, Espero e Libra, sono stati recuperati complessivamente dal San Giusto 817 naufraghi, tra cui 66 donne, 3 in stato interessante e 125 minori. Il personale della nave Amfibia della Marina ha prestato assistenza ai naufraghi fornendo viveri, acqua e cure mediche grazie al team di Brigata Marina San Marco e del personale volontario dell'Associazione Francesca Rava. A completamento dell'operazione, il comandante di nave San Giusto è riuscito, con il supporto del team della Polizia di Stato imbarcato, a identificare uno scafista che, consegnato all'autorità giudiziaria, si trova adesso in stato di arresto. All'arrivo nel porto di Augusta, l'ambasciatore rappresentante permanente dell'Organizzazione Internazionale per l'Immigrazione, accompagnato dal comandante della Direzione Marittima di Catania, l'amiraglio Domenico De Michele, ha voluto verificare personalmente le condizioni di buona salute e il trattamento riservato ai migranti in attesa di sbarco. Constatato l'operato del personale di bordo, prosegue la Marina Militare nel suo comunicato, si è complimentato con il capitano di vascello Mario Mattesi, comandante di nave San Giusto. Congresso per la FIOM CGL Catanese, si discute un po' delle vertenze che riguardano il settore e anche delle problematiche. Naturalmente non può mancare l'argomento che riguarda la ST e quello che è accaduto alla Micron. Assolutamente sì, la vertenza di ST e della Micron è una vertenza emblematica, vertenza di posti di lavoro messi in discussione in un settore in cui dovremmo vedere assolutamente altro, dovremmo vedere investimenti, non fosse altro per le opportunità che la comunità europea offre. Da qui al 2020 sono previsti ingenti investimenti e finanziamenti pubblici per oltre 100 miliardi di euro. questo ci pone nella condizione non solo di non giustificare ma quello non lo facciamo mai i licenziamenti ma ha maggior ragione di non capire perché quelle scelte che all'epoca provenivano da scelte meramente aziendali che la ST Macroelectronics ha fatto rispetto allo scorporo di rami d'azienda uno è il ramo memoria che ha comportato la vicenda della Micron l'altro è il ramo della wireless con la ST Ericsson in Francia non capiamo perché si stiano utilizzando due metri e due misure nel senso che i lavoratori che all'epoca furono scorporati nel ramo wireless in Francia sono stati tutti riassorbiti da ST i lavoratori scorporati da ST per il ramo memoria sono invece messi in discussione da Micron e come dire ST non si vuole assumere le proprie responsabilità. Intanto domani si profila una giornata importante a Roma. Assolutamente sì domani il primo incontro tecnico tra il Ministero dello Sviluppo Economico le varie regioni il tavolo tecnico sulla microelettronica che ovviamente parte dal problema della Micron perché l'ambito deve essere quello in cui in quel settore bisogna investire non licenziare quindi partendo dalle opportunità partendo da quello che il governo italiano è nella condizione di mettere in campo e quindi da un'idea da costruire sulle politiche industriali di settore bisogna portare a casa la volontà delle aziende a fare gli investimenti. Mentre a Catania la visita di Giorgio Napolitano negli stabilimenti che cosa vi aspettate? Ci aspettiamo quello che in qualche modo si aspetta nei lavoratori che hanno scritto una lettera a Giorgio Napolitano al Presidente della Repubblica e ci aspettiamo e domani gli consegneremo personalmente la lettera in sede di Prefettura un'attenzione rispetto non solo al nostro territorio al territorio siciliano al fatto che si producano veramente degli effetti che portino a cambiare questo sistema paese a porre l'attenzione dovuta laddove la ricchezza è possibile farla nei settori in cui così come quello della microelettronica non c'è bisogno di precariato per creare le aziende dove il lavoro che nasce può essere un lavoro di qualità dove abbiamo le eccellenze dove abbiamo gli stabilimenti dove il nostro paese ha bisogno di investire non siamo assolutamente d'accordo invece con chi pensa che queste fabbriche e mi riferisco esclusivamente al governo italiano rispetto alla vicenda della partecipazione alle quote ST pensi di vendere le quote di partecipazione per fare cassa sprecando probabilmente se non riusciamo ad invertire questa tendenza un'opportunità rispetto a quelli che possono essere invece investimenti nel settore le segreterie provinciali di Filt CGL Filt CISL Will Trasporti UGL Trasporti Faisa CISAL hanno chiesto un incontro urgente ai vertici dell'MT al prefetto di Catania al sindaco di Catania e all'assessore comunale alla viabilità per discutere della sicurezza sulle linee dell'MT l'azienda di trasporti urbana le organizzazioni sindacali denunciano i progressivi atti di vandalismo e le aggressioni che i conducenti dell'MT sono costretti a subire giornalmente e in modo particolare nelle ore serali e notturne specificatamente il sabato sera Crediamo necessario sottolinano le sigle sindacali analizzare gli episodi che giornalmente nelle varie zone periferiche della città mettono in serio pericolo l'inclumità dei conducenti Già possiamo annoverare diversi danni fisici anche di rilevante gravità già denunciate alla questura e non vorremmo che il problema venga posto all'attenzione dell'opinione pubblica solo quando accadrà l'irreparabile Filt CGL Fit CISL Will Trasporti UGL Trasporti Faisa CISAL di Catania denunciano infine che soprattutto nelle ore serali e notturne sugli autobus che collegano le periferie i conducenti sono costretti ad assistere all'uso e al consumo di sostanze stupefacenti lo scorso 14 febbraio si è costituito il comitato della responsabilità e per la tutela del lavoro in KH si tratta di un centinaio di lavoratori che ha già sottoscritto un manifesto costitutivo con il quale aderiscono all'ipotesi di accordo siglata il 7 febbraio scorso tra la Catane Handling e le organizzazioni sindacali confederali di categoria nonché delle rappresentanze sindacali aziendali tale adesione risulta essere prevista in una parte dell'accordo che le organizzazioni sindacali hanno stracciato nel corso di un'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori che si è tenuta lo scorso 12 febbraio cui erano presenti un'ottantina di persone tra le quali una quindicina di rappresentanti sindacali e una nutrita delegazione dei lavoratori licenziati il comitato della responsabilità e per la tutela del lavoro è stato costituito per prendere posizione sulle iniziative necessarie a fare fronte agli squilibri economici e finanziari dell'azienda che mettono in pericolo la prosecuzione delle attività e la conservazione dei posti di lavoro questa vicenda ha registrato un fatto assolutamente inedito cioè il ritiro della firma di un accordo da parte degli stessi protagonisti che l'avevano sottoscritto l'accordo prevedeva anche un referendum che a questo punto è stato annullato il comitato nasce perché vuole rappresenta uno spazio democratico un laboratorio di pensiero se vogliamo di elaborazione di proposta ma anche di stimolo perché si trovi una soluzione a questo problema che riguarda 360 padri di famiglia e quindi è un problema molto serio che non può essere liquidato con decisioni molto frettolose l'obiettivo che ci poniamo è quello di convincere le parti in campo e noi siamo una di queste a trovare una soluzione che sani da un lato lo squilibrio economico dell'azienda e dall'altro lato assicuri la conservazione dei posti di lavoro per tutta la gente che qui lavora da tanti anni e ha dato anche diciamo un contributo importante a questa città appunto potendo avere parola quale potrebbe essere una delle vostre proposte noi abbiamo chiesto un incontro all'azienda noi partiamo da quell'accordo che è un accordo che comunque diciamo contiene un sacrificio ben determinato per un periodo ben determinato che consente all'azienda di superare questo momento difficile e quindi creare le prospettive per una prosecuzione dell'attività voi credete che la situazione si possa risolvere al più presso così come paventato anche dalla stessa azienda noi lo auspichiamo fortemente il comitato diciamo nasce anche per questo per essere diciamo appungolo di chi poi diventa e comunque protagonista di questa vicenda quindi pensiamo all'azienda e pensiamo al sindacato lo abbiamo chiamato comitato della responsabilità e della tutela del lavoro in KAH proprio per questa ragione perché si trovi tutti trovino un modo per risolvere la questione garantire appunto la salvaguardia dei livelli occupazionali che non può non passare per la prosecuzione delle attività aziendali venghino perché con piante alberi alberi ad alto fusto massi coreografici e bricciolino si sta dando vita a piccole oasi a verde casualmente giusto giusto nei punti del percorso che attraverserà il presidente della repubblica Giorgio Napolitano già da stasera in visita a Catania in vista della cospicua agenda di impegni fissati per domani coincidenza sì possibile pensarlo per chi crede in Pinocchio nella fata turchina ma ovviamente potrebbe anche essere così se qualcuno volesse smentire la nostra ipotesi è libero di farlo quale ipotesi che in vista dell'arrivo del capo dello stato si è voluto tappare i buchi di una città che giorno dopo giorno si sta spegnendo ma saranno solo aiuole e un po' di alberi a trasformare la città e a nascondere tutte le problematiche che presenta in ogni caso poiché siamo ottimisti e non disfattisti sempre se questi interventi sono stati approntati in vista dell'arrivo di Napolitano vogliamo cogliere il lato positivo e ci auguriamo che torni più volte a Catania e perché no insieme a lui altri potenti presidenti anche esteri ambasciatori ministri sultani imperatori insomma chi più ne ha più ne metta così tra qualche tempo altro che scontro su città metropolitana o meno Catania diventerà certamente la Lugano del Sud bene venghino signori venghino si è tenuta sabato pomeriggio presso Palazzo Blandini a Palagonia un'assemblea pubblica organizzata dal circolo di sinistra ecologia e libertà di Palagonia dal tema ripartiamo dall'agricoltura presente l'onorevole Palazzo Terasmo componente della tredicesima commissione agricoltura alla camera dei deputati l'agricoltura è una delle più grandi risorse che il nostro paese oggi ha per intenderci è l'unico settore che in questa fase di crisi ha aumentato il proprio livello produttivo e la propria capacità di produrre reddito per chi lavora in questo settore noi abbiamo al contrario di quello che può sembrare invece un disinvestimento delle istituzioni sul terreno dell'agricoltura noi abbiamo bisogno che vengano affrontate le questioni logistiche che riguardano la possibilità di mettere i nostri prodotti in grado di competere sul mercato internazionale ma abbiamo bisogno anche di risolvere i problemi legati ai singoli territori e alle questioni che riguardano anche il lavoro nel campo dell'agricoltura il lavoro nero in primo luogo e anche la possibilità di mettere in condizioni come sta accadendo qua i braccianti di poter lavorare in condizioni di sicurezza e soprattutto senza essere ricattati anche molto spesso dalle istituzioni come nel caso della mancanza di indennità e disoccupazione per le imprese che vengono ritenute irregolari e che spesso scaricano il costo di queste irregolarità sui braccianti veri che hanno prestato la propria occupazione nelle campagne Palazzotto sottolinea anche quanto sia importante tutelare il Made in Italy abbiamo bisogno di proteggere le nostre produzioni dalle produzioni straniere e dal falso Made in Italy noi abbiamo diciamo le cronache di questi giorni piene di scoperte delle nostre forze dell'ordine nei nostri porti italiani arrivano arance dai paesi africani che vengono poi qui lavorate e vendute come produzioni locali questo fa abbattere drasticamente i costi del prodotto e quindi il prezzo delle nostre arance perché ovviamente non possiamo reggere il paragone e il confronto e questa è una delle cose che sta mettendo in ginocchio le nostre produzioni per questo noi abbiamo chiesto con una mozione in Parlamento insieme ad altri gruppi parlamentari che vengano rafforzati gli strumenti di controllo e i meccanismi di tutela del Made in Italy per evitare proprio che attraverso questi meccanismi si mettono in ginocchio e si distruggono culture centenarie e soprattutto la qualità dei nostri prodotti che verrebbe notevolmente colpita da questi fenomeni intanto la settimana scorsa è stata inaugurata a Palagonia la nuova sede di SEL abbiamo intitolato al sindacalista e onorevole Giuseppe Di Vittorio non a caso è stata intitolata Giuseppe Di Vittorio perché vogliamo diciamo portare nuovamente le tematiche che sono quelle dell'agricoltura quelle dei braccianti agricoli perché riteniamo che ad oggi la Sicilia come regione l'unico incremento economico e quindi l'unico apporto che può dare all'economia dell'isola è l'agricoltura siamo sempre aperti anche alle altre forze alle associazioni che operano sul territorio perché io penso che questo sia il modo giusto di fare Poliglia cioè quello di una cooperazione diciamo basata su un confronto sano un confronto aperto che sia nell'interesse generale e nell'interesse di tutti grazie